Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale. Oggi finalmente video creazioni. Approfitto di questo video per presentarmi, visto che nelle altre occasioni non l'ho ancora fatto. Io mi chiamo Lisa e da circa 14 anni ho la passione per i bijoux handmade. Nel corso degli anni ho sperimentato diverse tecniche creative e mi sono appassionata ad alcune di esse. Inizio quindi la carellata di oggi con alcune delle creazioni dell'ultimo periodo iniziando proprio da quello che vedete inquadrato da inizio video, il cuore è qui davanti. Non a caso ho scelto un cuore, io in tutto quello che faccio cerco sempre di metterci il cuore quindi mi sembrava la creazione giusta con la quale iniziare questo mio primo video creazioni. Ora ve lo mostro più da vicino questo cuore che ho realizzato da un tutorial su YouTube e dopo vi lascerò sotto nel box di informazioni tutti i links dei tutorial che ho seguito. Questo dicevo l'ho realizzato con tutti i Bikono Swarovski in questo meraviglioso colore. È sempre bellissimo questo progetto, ultimamente ne ho realizzati diversi ma anche tempo fa ne avevo realizzati e riscordi sempre un enorme successo perché è effettivamente molto molto bello. Si presta tra l'altro a diversi utilizzi, in questo caso l'ho appeso a un semplice cordino in cuoio poi ne ho realizzato un'altra versione in questo meraviglioso colore Crystal Abbey in questo classico colore e ho appeso qui una catenina con un moschettone in quanto il suo utilizzo è da appendere allo specchietto dell'auto. Mi sembra tra l'altro anche una meravigliosa idea questa. Un'altra versione che ho realizzato è stata questa Dubble Fass da una parte Capri Blu Abbey e dall'altra Crystal tutti i Bikono Swarovski ho ripreso poi qua alla fine con una sfera sempre Swarovski a riprendere appunto la faccia blu piace molto come sta indossato me ne sono fatta per me uno tempo fa è sempre meraviglioso ora anzi ve l'ho preparato qua da mostrarvi perché è molto carino anche così in quanto è questo rosso classico del cuore io credo che me l'ero fatta in occasione di un San Valentino le due facce rosse con sul fianco appunto i cristalli Crystal Abbey vi faccio vedere come sta indossato perché mi piace molto come ciondola guardate che bello bellissimo questo è il mio personale poi sempre con Bikono Swarovski ho realizzato su richiesta questo anello ce l'ho identico anch'io forse l'avrete notato in uno dei precedenti video quando lo indosso riscuote sempre tanto successo infatti questo è una delle repliche che ho fatto per una signora questi Bikono rosa opalescente con riflesso AB sono uno spettacolo veramente anche di questo ho seguito un tutorial su YouTube poi come tutti gli altri insomma come vi ho detto vi lascerò tutti i riferimenti poi iniziamo adesso la carellata degli orecchini che è uno degli articoli più richiesti almeno per quanto mi riguarda inizio dagli ultimi che ho realizzato ieri questi dall'ultimo tutorial della bravissima annunzia che ringrazio perché effettivamente appena li ho visti me ne sono veramente innamorata e li ho riprodotti all'istante si può dire li ho realizzati in questi colori che mi piacerebbe quasi quasi li tengo per me anche perché non c'è migliore vetrina di quando li indossiamo noi stessi i nostri bijoux mi piace la forma mi piace la compattezza che ha questo progetto veramente molto rigido poi bombato veramente bello bello grazie ancora annunzia per questo meraviglioso tutorial altri orecchini che ho realizzato sono gli orecchini navette da un tutorial di Claudia Fanuli questi in tutti i colori che si fanno anche loro sono sempre bellissimi ho utilizzato questi questi cristalli matt questi cipollotti matt al centro che sono molto belli poi l'ho realizzato anche in quest'altra colorazione meravigliosi poi sempre di recente ho realizzato questi orecchini gli orecchini Roberta da un tutorial della bravissima Francesca Piombino ne avevo realizzato un paio in blu e oro che ho deciso di tenere per me ho messo la nappina al posto della goccia li ho postati nei vari gruppi facebook è un progetto veramente molto bello che indosso sta una favola veramente questi li ho realizzati su commissione con queste bellissime perle Swarovski una delle ultime colorazioni uscite belli 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 sempre da un progetto di Francesca questa volta uno schema che trovate nel suo negozio Etsy ho realizzato tante versioni di questi orecchini gli orecchini Gilles in questa colorazione sul celeste con queste super due che sono veramente spettacolari tra le varie versioni rimaste mi sono cioè create mi sono rimasti queste li ho realizzati anche con con la nappina che adesso li devo anche riprodurre che me li hanno richiesti in una versione nero e argento con la nappina e in questo caso invece ho messo la goccia come da tutorial una goccia in pietra dura questa dovrebbe essere acqua marina grezza se ricordo bene belli belli uno schema semplice ma veramente d'effetto altri orecchini questa volta a lobo sono gli orecchini baby sempre da un tutorial di Francesca chi mi segue sa che adoro i suoi progetti quindi troverete spesso creazioni realizzate da suoi tutorial allo schemi questi sono semplici orecchini a lobo molto belli anche da utilizzare come perno per altri moduli da appendere sotto questo come presento io ho gli orecchini a lobo una semplice fustellata con acquore che trovo insomma molto carina altri orecchini a lobo sono questi gli orecchini se ricordo bene Benevento sempre di Francesca bellissimi anche questi all'interno ho messo un rivoli in resina e poi c'è tutta questa bella lavorazione che anche se sono a lobo sono importanti sono belli all'orecchio poi altri orecchini che ho realizzato ultimamente sono questi dei quali vado veramente fiera sono orecchini che adoro da un tutorial della mia amica della mia carissima amica Mirella Mirella Camperchioli che trovate anche qui su youtube questo modello di orecchini li adoro particolarmente perché li ha dedicati a me infatti si chiamano orecchini lisa e quindi veramente ringrazio di cuore Mirella per questo bellissimo pensiero questa è una delle ultime versioni che ho realizzato con queste candy matte metallic flax bellissime e poi ho messo la goccia qui in fondo nel tutorial si può decidere se montare la goccia da una parte o dall'altra io ho preferito da subito questa versione quindi insomma le ho riprodotte tutte in questo modo bellissime grazie ancora Mirella dunque altri orecchini che ho realizzato ultimamente veramente è uno solo perché sono rimasta senza l'erocail quindi adesso vedrò appunto se trovare l'erocail uguale o se utilizzarlo come come ciondolo non avevo fatto i conti bene prima di iniziare effettivamente ero partito con tanto entusiasmo perché mi piace un sacco questo schema che trovate su questi uno schema della bravissima Nicoletta Barbera over the rainbow si chiamano orecchini sirio è veramente a parte che io adoro letteralmente la forma del cerchio un cerchio bello grande gli orecchini mi piacciono che si vedano e quindi questi li ho voluti riprodurre subito adesso proverò a farli comunque in altre colorazioni perché mi piacciono veramente molto guardate in questo caso dovrei avere utilizzato il bicono che vi ho mostrato appunto nel cuore cioè adoro questa colorazione ne ho presi tantissimi perché mi piacciono e stanno bene in tantissimi abbinamenti di colore anzi spesso in base a come si abbinano prendono un po' la colorazione che hanno intorno belli belli poi dunque ancora come orecchini vi mostro ora degli orecchini che ho realizzato con un'altra tecnica che amo non quanto la tessitura di perline però diciamo che anche la chain mail mi piace molto questi sono orecchini da un tutorial di Maria Filomena Mascolo la proprietaria del negozio brillanti creazioni molto belli mi sono piaciuti sempre realizzarli perché hanno sono semplici ma hanno questo effetto all'orecchio che fanno questo rumore mi piacciono i gioielli che fanno rumore anche le clienti è un modellino che adorano in questo caso invece del solito cipollotto che appendo qui sotto ho messo un cuoricino un cuoricino Swarovski in questa colorazione che purtroppo è difficile da trovare perché non credo realizzino più il bermuda blu mi piaceva tantissimo anche nei rivoli della Swarovski ma è difficile da trovare anzi se sapete voi di qualcuno che ha ancora delle scorte in magazzino di rivoli in questo in questo colore bermuda blu ditemelo lasciatemi un commento qui sotto perché mi piacerebbe fare scorta prima che vadano esauriti completamente questi appunto sono orecchini in chain mail sempre in chain mail ho realizzato un classico che faccio da sempre diciamo questi orecchini a grappolo io quando li ho fatti non ho seguito nessun tutorial avevo visto una foto su un giornale forse avevo visto le avevo viste addirittura in una vetrina nel negozio adesso che ricordo ma si parla di tanto tempo fa quindi non ho bene in mente comunque per chi faccia email sono effettivamente molto molto facili da realizzare anche questi tutti i colori che si fanno sono sempre molto belli all'orecchio fanno un effetto stupendo sempre il prechiama orecchini comunque importanti come dimensioni questi mettiamo qua poi sempre in chainmail ho riprodotto su richiesta una collana che avevo realizzato anche l'anno scorso adesso non so se riesco a farvela vedere tutta qua perché è una collana lunga realizzata appunto con questi inserti in chainmail ecco la particolarità che è piaciuta molto è questo inserto di questo modulo il modulo di carmen russo sky blue se non ricordo male comunque dopo vi lascerò anche di questo modulo il link qui sotto e avevo pensato appunto un modo alternativo di usarlo perché fa sempre parte di quelli modelli che bombati rigidi che mi piacciono un sacco l'anno scorso appunto avevo provato a montarlo su questa catena lunga adesso poi vi farò vedere una foto che ho già di quello dell'anno scorso oppure farò una foto anche a questo di come sta indossato su un collo sull'espositore il ciondolo rimane praticamente messo su un fianco dell'industria non so se riuscite a capire comunque vi farò vedere la foto molto molto bello e una signora ha visto la foto su facebook e mi ha la richiesta uguale tra l'altro con questi colori che effettivamente sono giusti per la stagione che sta per arrivare poi dunque passiamo a qualche bracciale che ho realizzato ultimamente questo ad esempio il primo uno dei modelli che piacciono sempre tanto il bracciale SIA realizzato con cipollotti 6x4 e 3x4 semplice ma elegante luminoso veramente molto bello ho messo qua una calamita per la chiusura bellissimo alto bracciale di grande effetto è questo è un progetto sempre della bravissima annunzia adesso non ricordo esattamente il nome che aveva dato comunque vi lascerò anche di questo il link qui sotto tutto realizzato con cipollotti ha una luce pazzesca bellissimo poi altro bracciale che veramente non so dire in quante versioni è realizzato perché piace sempre tanto in tutti i colori che lo si fa è sempre una sorpresa diversa un bello bello veramente l'avrete riconosciuto questo è il bracciale spagna della bravissima alessia principe che saluto in questo caso l'ho realizzato nei toni del viola e dell'argento bellissimo proprio io poi adoro il bracciale a fascia e vedo che comunque è un modello apprezzato tantissimo anche dalle clienti ho messo una chiusura calamita con tutti gli strass e questo appunto è il bracciale poi visto che volevo insomma in questo primo video mostrarvi anche altre tecniche che utilizzo diciamo nelle mie passioni una delle ultime passioni che ho scoperto ultimamente è il macramè quindi vi faccio vedere uno dei gufetti che ho realizzato un gufetto portachiavi oppure da prendere alla borsa mi piace molto questa tecnica che ho iniziato a seguire un po' per scherzo tramite un corso era una tecnica che mi incuriosiva ed effettivamente mi piace diciamo questo lo ritengo proprio un mio hobby e mi rilassa come mi rilassa anche da sempre l'uncinetto questa è una delle borsine che ho realizzato quest'estate adesso inizierò a realizzare quelle in versione diciamo più invernale insomma con i colori natalizi che effettivamente per dei pensierini di natale sono sempre molto molto richiesti e poi sempre un uncinetto questo ce l'ho qua che l'ho tirato fuori ieri che mi è arrivato in mano e quindi ve lo mostro l'ho realizzato tempo fa questo cuore io odoro i cuori e quindi insomma l'ho realizzato anche all'uncinetto non è non è perfetto però insomma a me piace a me piace molto bello bello puccioso bene inizio con un cuore e finisco con un cuore senza farlo apposta stavolta io vi ringrazio veramente tutte di avermi seguito vi ringrazio per il calore che mi avete dimostrato nei primi video e insomma abbiamo fatto video creazioni video swap questo video recensioni chissà il prossimo quale sarà vedremo grazie ancora a tutti ciao ciao ciao